Sono 2.535 positivi individuati nelle ultime 24 ore a fronte di 222.385 tamponi effettuati, mentre il tasso di positività sale all'1,1%. Secondo i dati del Ministero della Salute sono 30 le vittime in un giorno. Aumentano i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, sono 2.579. Diminuiscono i pazienti ricoverati in terapia intensiva, sono 338.